Qual è il modello biopsicosociale? Il modello biopsicosociale è un metodo per comprendere la salute e la malattia attraverso fattori biologici, psicologici e sociali. Il principio del modello biopsicosociale afferma che tutte le questioni relative alla salute sono prodotti di una complessa interazione di questi tre fattori. Il modello è stato sia riverito che criticato nei circoli medici. In parole povere, il modello biopsicosociale è noto come connessione mente-corpo. Nel 1977, uno psichiatra americano di nome George Engel sviluppò il primo modello biopsicosociale. Engel mirava a comprendere tutti gli aspetti che hanno portato allo sviluppo di condizioni mediche specifiche al fine di fornire un livello superiore di assistenza. Nello spiegare il modello biopsicosociale, Engel enfatizzava gli aspetti distinti della cura, il paziente, il contesto sociale del paziente e i mezzi per affrontare la malattia, cioè i medici e il più ampio sistema di assistenza sanitaria. L'influenza biologica gioca un ruolo chiave nel modello biopsicosociale, o BPS. In questo aspetto del modello, le cause fisiologiche di una malattia sono identificate e studiate. Le teorie dietro al modello BPS, tuttavia, considerano i fattori biologici solo come una parte della malattia e che nessuna malattia si manifesta basandosi esclusivamente su basi fisiologiche. Deve funzionare in combinazione con altre funzionalità decisive. L'influenza psicologica è un'altra di queste caratteristiche principali. Sotto questo aspetto del modello, un operatore sanitario cercherà i problemi psicologici sottostanti che hanno contribuito allo sviluppo delle condizioni del paziente. Ci sono una varietà di influenze psicologiche che possono contribuire a una malattia, compresa la depressione, i modelli di pensiero negativo e la mancanza di autocontrollo. L'aspetto dell'influenza sociale del modello BPS esamina la malattia da una prospettiva sociologica. Engel ha dedotto che considerazioni come la posizione economica, la religione e persino la tecnologia possono svolgere un ruolo chiave nella creazione della malattia. Anche i sistemi di credenza personali sono considerati di importanza significativa nello sviluppo della malattia. Il modello BPS è stato accolto con tanto entusiasmo e critiche. I supporti abbracciano il concetto di connessione mente-corpo e questa idea è cresciuta in popolarità e ha formato la base per ogni cosa, dai programmi di esercizi ai libri di autoaiuto. Gli avversari, tuttavia, trovano il modello BPS mancante e intrinsecamente difettoso. Citano il modello come un modo per scoraggiare i pazienti e farli sentire di non avere voce in capitolo sulla loro malattia o sul loro trattamento. Gli oppositori affermano anche che il modello BPS fa distinzioni non scientifiche tra fattori biologici e psicologici.